Il componente del volo Gianluca Ginobla ha incontrato gli studenti della scuola Moretti di Roseto degli Abruzzi, un incontro fortemente voluto dall'istituzione scolastica che ha voluto anche intraprendere un percorso di riconoscimento ufficiale per l'alto ruolo di rappresentanza sotto il profilo culturale e turistico che il famoso cantante sta svolgendo per la comunità locale e per l'intero Abruzzo. Gianluca Ginobla, abruzzese doc, come lui ama definirsi, ha parlato con i ragazzi soprattutto dell'importanza del credito in se stessi. Il mio percorso è quello di essere un buon esempio, soprattutto per i ragazzi della mia età ma anche più piccoli. L'importante è avere degli obiettivi, si capisce l'importanza della scuola a volte tardi, però impegnarsi e raggiungere degli obiettivi della vita. Questo è sicuramente una delle cose più importanti. Sicuramente quello di credere in se stessi e di raggiungere quello, poi è chiaro, lavorare con la propria passione facendo quello che una persona ama di più è il sogno di tutti, quindi spero e auguro a tutti di raggiungere questo obiettivo nella vita.